Good morning ragazzi e benvenuti in questa nuova video lezione del Prof.Betti. Oggi vi parlerò di uno dei momenti più importanti della storia del Medioevo per l'Italia. Infatti parleremo della nascita dei comuni. Come sempre preparo PowerPoint e cominciamo con la lezione. Per parlare di come si sviluppano i comuni andiamo a vedere la piramide del potere, cioè in pratica chi è che comandava in teoria nelle varie città italiane. Come vedete la situazione è molto stratificata e in cima a questa piramide troviamo la figura dell'imperatore, che però come vedremo avrà un potere più nominale che effettivo. Di solito l'imperatore delegava i vescovi in particolare, che quindi erano coloro che effettivamente intorno all'anno 1000 avevano il potere delle varie città italiane. Al di sotto dei vescovi troviamo quelli che vengono definiti magnati, cioè fondamentalmente nobili e mercanti particolarmente ricchi. Al di sotto di questo strato troviamo la borghesia, quindi persone diciamo con una ricchezza media, potremmo trovare avvocati, medici, mercanti non così ricchi da essere magnati e così via. E infine in fondo troviamo la plebe, cioè il popolo più povero, quindi per esempio piccoli commercianti, contadini, operai e così via. Iniziamo adesso vedendo la figura dell'imperatore. Per quanto riguarda l'imperatore, come ho detto anche prima, di solito lasciava grande autonomia di governo alle singole città. Infatti l'imperatore era praticamente sempre di origine tedesca e quindi non aveva molto a cuore quello che succedeva in Italia. Perciò lasciava che fossero le città ad autogovernarsi e in particolare sfruttava appunto la figura del vescovo. Andiamo a vedere proprio quello che hanno fatto i vescovi. I vescovi governavano la città ma non avevano un potere assoluto. Per poter governarla si facevano aiutare dai nobili e quindi diciamo da quelli che abbiamo chiamato i magnati, perché i nobili spesso avevano dei piccoli eserciti ai loro comandi e quindi erano molto importanti per mantenere la pace nelle varie città. Un'altra cosa che sfruttava il vescovo per governare erano dei consigli di cittadini, quindi delle assemblee che lo aiutavano a prendere le decisioni più complicate. Per quanto riguarda i magnati vivevano nei loro possedimenti che erano appunto possedimenti di campagna e però col fatto che le città stavano diventando sempre più ricche molti di questi nobili e ricchi mercanti decisero di tornare a vivere in città e per dimostrare la propria potenza cominciarono a costruire queste torri e più alta era la torre e solitamente più ricca e potente era la famiglia. In una vera e propria sfida queste torri oltretutto servivano nel caso di guerre tra le varie famiglie rivali proprio per difendersi dagli altri magnati. Per quanto riguarda invece la borghesia crearono delle associazioni per guidare la città. Queste associazioni formavano delle assemblee, dei consigli e furono proprio da queste associazioni che nacquero i comuni. Queste associazioni potevano essere per esempio anche di mestiere, potevano essere di quartiere, insomma fu la base proprio su cui poi si svilupparono i comuni. Queste associazioni, come vi ho detto in precedenza, erano state sfruttate dai vescovi per governare la città. Però che cosa successe? Mentre all'inizio, siamo tra il Novecento e l'anno Mille, grossomodo, queste associazioni aiutavano effettivamente i vescovi, piano piano cominciarono a dire ma perché dobbiamo farci governare da un vescovo e quindi iniziarono a buttare fuori, a estromettere i vescovi dalla politica cittadina, prendendo loro il controllo. Queste associazioni avevano diversi nomi che potevano cambiare da città a città ma vi ho messo alcuni dei più diffusi, diciamo, si potevano chiamare Arengo, Parlamento oppure Concione. Chi faceva parte di queste associazioni? Vi parlerò soprattutto di chi era escluso in realtà. Erano escluse ovviamente le donne che non partecipavano alla vita politica, i servi, i non cristiani e nelle città italiane i non cristiani erano quasi sempre gli ebrei. Comunque se ci fossero stati dei musulmani anche loro, però per non cristiani di solito si intendono gli ebrei. Poi i senza fissa di mora, quelli che noi chiameremo i barboni, e poi chiaramente le persone molto giovani. Che cosa facevano queste associazioni? Eleggevano dei consoli. Solitamente erano due, poi anche qui variava da città a città, ma in genere i consoli erano due, e governavano per un anno la città. Erano una sorta di doppio sindaco, diciamo. E questi consoli, soprattutto all'inizio, venivano scelti tra la nobiltà o i ricchi mercanti, quindi in pratica erano dei magnati che venivano eletti da queste associazioni. A loro volta questi magnati, questi consoli, erano affiancati da un consiglio ristretto, un consiglio cittadino, quindi un'assemblea ancora più ristretta rispetto a quella precedente, di solito chiamata Consiglio degli Anziani. E si trattava in pratica di un'oligarchia, quindi di un governo di pochi. Rifacendo la nostra piramidina del potere, potremmo dire che i consoli erano al vertice, appunto era una sorta di doppio sindaco, poi c'era il Consiglio degli Anziani, che era questo consiglio ristretto, e poi c'era la Rengo, Parlamento, Concione, che invece rappresentava, diciamo, la maggior parte della popolazione. Un'altra caratteristica, e dobbiamo sottolineare, è che questi comuni sorsero soprattutto nell'Italia del centro e del nord. Al sud Italia, come vi dirò, fra poco non ci fu questo fenomeno. Alcuni di questi comuni nacquero nel nord Europa, nella zona del Belgio, dell'Olanda, però non ebbero vita lunga, e fu un'esperienza che finì abbastanza presto. Come mai nacquero quindi in questa zona e si svilupparono lì? Innanzitutto, come vi ho detto prima, per la debolezza degli imperatori, e poi perché questa forma politica si dimostrò molto adatta per governare le città. E in pratica, questi comuni, quindi ogni città, si comportava come un vero e proprio Stato, e quindi erano autonomi, si gestivano da soli la giustizia, battevano addirittura monete, in Italia c'era un sacco di monete, ogni città aveva la sua moneta, c'era Milano, c'era Venezia, c'era Firenze, ognuno con la sua moneta, poi riscuotevano le tasse, si scrivevano le leggi, eccetera, eccetera. Come vi dicevo, al sud, invece, i comuni vennero bloccati, non sorsero, in particolare perché il potere dei normanni, che era molto più forte rispetto a quello dell'imperatore, e quindi i normanni fecero sì che questi comuni non si sviluppassero. Bene, come sempre, spero che questa video-lezione vi sia piaciuta, e ci vediamo in classe!